Per quanto riguarda le parole del Presidente, io lo ringrazio, ma a me non è che mi cambi qualcosa il fatto che magari qualcuno di voi stamani o ieri ha inviato dei messaggi a Pedullà dicendo che ero in bilico o se ieri qualcuno di voi ha chiamato alla vigilia della partita Capozucca per chiedergli se è vero che io ho litigato con Falletti e io che mi sono speso per Falletti per farlo rimanere, le ho dato faccia ai Capitano, mi sto spendendo per fargli rinnovare il contratto, devo sentire le solite voci messe in giro ad arte ormai da tempo da dei personaggi che secondo me onestamente non capisco che gioco fanno, non capisco l'utilità, non per me perché io posso andare anche a casa domattina, tanto ci sono già andato e ci riandrò, non è che mi cambia niente, non è questo il mio problema, io ho cose eventualmente anche più importanti da fare a casa e quindi non rappresenta per me un problema. Qualcuno di noi? Qualcuno di noi? Si, si, si. Io vi dico cosa mi è stato riferito sia da Pedullà che da Capozucca, quindi ovviamente i nomi non me li ha fatti, però mi ha detto che ci sono stati giornalisti, io vi chiedo alla vigilia di una partita come questa è normale? Non per me, a me non me ne frega niente, io posso andare a casa domattina, ripeto, quando fai questo mestiere lo metti nel conto, ma io dico è normale? Tutti i chiacchiericci che ci sono intorno alla Ternana, ogni giorno notizie non vere, strumentalizzate, è normale? Per me no, perché la squadra si aiuta e come dicono in Inghilterra e come fanno i tifosi, perché io per ora l'uniche parole con un senso di appartenenza grosso, io l'ho sentito dire dagli Ultras, in quattro anni che sono qua, qui funziona al contrario, qui c'è gente di mezza età che gode delle sconfitte della Ternana e i discorsi intelligenti li ho sentiti dire e costruttivi li ho sentiti in quattro anni sempre fare dai tifosi, dall'Ultras, io vi dico è normale la vigilia di una partita come questa fa uscire, a me non me ne frega niente, c'è anche il presidente, a me mi può mandare via anche domattina, tanto io non sono un ipocrita, io lo so perfettamente perché alleno la Ternana, io alleno la Ternana perché cinque allenatori si sono rifiutati con Leone, cinque allenatori si sono rifiutati con Capo Zucca, è l'unico che ha accettato di allenare la Ternana, sono stato io, quindi non è che io sono venuto giù con la piena, io sono perfettamente consapevole e so che posso andare a casa un'altra volta, non mi interessa, io ho la coscienza a posto perché io lavoro dalla mattina alla sera con il mio staff, ve l'ho già detto e lo ribadisco, io magari non sono un bravo allenatore, però lo staff che ho io, che mi aiuta e quindi mi può anche far diventare bravo, non ce l'ha nessuno, in Serie B sicuramente e anche tante altre squadre di Serie A, quindi ho l'assistente, non è che vado da solo, ho un gruppo di lavoro che non ce l'ha nessuno, che non ce l'ha nessuno, che vive di Ternana dalla mattina alla sera, che guarda le partite degli avversari anche la notte per prepararli al meglio, quindi ditemi voi tutti questi chiaccherici, tutte queste pettegolezzi che girano intorno alla squadra, all'allenatore, a quella, a quell'altro, tutti questi, qui si va d'accordo, so che a qualcuno le dispiace, ma qui si va d'accordo, e i problemi ci vengono creati solo, dai chiacchiericci fuori che non servono a niente, è diventato gossip, è diventato gossip, qui, scusa finisco, c'è poca gente, ci vuole, bisogna crescere, io sono l'ultimo che può dare degli insegnamenti, perché come vi dico sempre scherzando, ho la terza media e l'ho fatta due volte, quindi io posso essere l'ultimo, però sono stato in 22 città, e ho lavorato, e ho giocato, ci sono stato da calciatore, e ci sono stato da allenatore, e quello che io assisto a Terni, quando la Ternana perde, la gestione delle sconfitte, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa, è sempre la caccia al colpevole, è sempre a ditare, e Lucarelli, e Iannarilli, e Sorens, e quello, e l'altro, ma si fa il bene della Ternana, io non lo so, ma volete il bene della Ternana, ora capisco perché è 50 anni che la Ternana ha un Vanzerea, ma è normale, sempre tutti a polemizzare, sempre tutti a buttaggiù, a togliere un mattoncino per far cascare la casa, ma è normale, gente di mezza età che offende, si va lì sotto la curva, nessuno ha detto niente come al solito, hanno fatto il solito discorso intelligente, sia la curva che la larga, passi sotto distinti, gente di mezza età con i poti per la mano che ti offende, ma cosa c'avete nella testa? Ragazzi, ma qui bisogna osservarsi, qui quest'anno è l'anno zero, si sapeva tutti, si sapeva tutti, vi ripeto, io posso andare a casa domani, il Presidente lo sa, io ero a casa, dove ho rifiutato due situazioni e sicuramente entro due mesi sarei entrato in un'altra situazione, entro due mesi infatti, risultati alla mano sarei entrato, però non c'era nessuno che voleva allenare la Ternana, non si sono picchiati per venire a allenare la Ternana, perché in queste situazioni quando si riparte con i giovani e tutto il resto bisogna metterci la faccia, e io ce la metto, io non sono mai scappato, io sono sempre andato sotto la curva quando ho perso, da quattro anni a questa parte, ci sono sempre andato e se io ho un contratto è perché me lo sono meritato sul campo, innanzitutto non ho messo la pistola alla testa a nessuno, quel contratto lì che io ho e con il quale lavoro me lo sono sudato sul campo, con 18 record, con 90 punti e con l'unico trofeo nazionale che c'è in Bacheca la Ternana, c'era Cristiano Lucarelli, c'era Cristiano Lucarelli che darà il sangue fino all'ultimo per salvarsi anche quest'anno, fino a che mi sarà dato la possibilità. Con il Presidente abbiamo un buon rapporto, il giorno che deciderà che lui non ha più fiducia in me, in un minuto troviamo l'accordo, in un minuto. Due parole su Dionisio, l'ultimo arrivato, cosa si aspetta, cosa gli ha chiesto per portare per la squadra? Di esperienza e di essere leader, perché lui caratterialmente può esserlo, anche se il leader, nel senso non è che obbligatoriamente deve essere in campo, leader è nello spogliatoio, il leader può essere neanche uno che non fa magari tutte le partite a titolare, no? Lì dentro ci deve essere uno riconosciuto, secondo me lui, io ci ho giocato insieme, quindi lo conosco. Può essere un po' una ghiaccia ogni due giorni? Ma sì, può essere una guida, poi è uno giusto caratterialmente, è uno che non ci sta a perdere, è uno che si arrabbia e quindi secondo me ci darà una grande mano nello spogliatoio e nel campo. Meritasse qualcosa in più, poi dopo con uno in meno è stata un'altra partita e questa è un po' la sintesi della partita questa sera. Che stagione attende la remonese dopo la ripartenza? Ci attende la partita di domenica, quindi domenica abbiamo una partita e cerchiamo di prepararla al meglio perché la Serie B non ti permette di pensare tanto lontano se non alla partita che hai da affrontare la volta dopo. Sì, equilibrata credo la Cremonese avesse avuto qualche situazione pericolosa in più rispetto alla Ternana e è vero, dopo l'espulsione è stata un'altra partita, la Ternana ha provato a recuperare la partita e noi non è che abbiamo concesso poi così tanto, è chiaro che la Ternana spingeva molto.